La comunità di Buonemerse nel Cremonese si riunirà domani alle ore 21 nella chiesa parrocchiale per un rosario in memoria di Rossella Cominotti, la 53enne uccisa dal marito Alfredo Zenucchi in un albergo dello Spezzino dove la coppia stava soggiornando da qualche giorno. Ad organizzare il momento di raccoglimento Donna Alberto Martinelli, parroco e il sindaco Luca Ferrarini che lo scorso marzo aveva celebrato il matrimonio della coppia. Il primo cittadino era anche un cliente dell'edicola gestita da marito e moglie e li ricorda come persone molto discrete, gentili ed educate. Intanto oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo della donna, esame che dovrà rispondere ad una serie di domande a partire dal profondo taglio sul polso della vittima che Zenucchi dice di aver fatto ma che non risulta sul verbale della ricognizione esterna del corpo, che parla solo di sgozzamento. Altri tasselli sulla personalità dell'assassino emergono di ora in ora come il precedente penale che Zenucchi ha per minaccia alla sorella e che si è concluso con una sentenza del 2015 con la sospensione della pena. Era il periodo dell'eroina quando ha litigato con la sorella, precisa illegale dell'uomo, l'avvocato Rimaudo. Un passato o forse un presente di droga come sta emergendo in questi giorni che sarebbe stata presente anche nella stessa stanza dell'omicidio qualche giorno fa. Nel frattempo emergono i dettagli della vacanza finita in tragedia. La coppia, partita dalla casa di Cremona, ha soggiornato all'hotel Napoleon di Pontremoli, quindi all'hotel Doria di Lerici e infine nella locanda di Mottarana, teatro dell'omicidio. Secondo quanto appreso da circa un mese, Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi parlavano di morte e avrebbero già provato a suicidarsi a fine novembre nell'edicola che avevano acquistato ad inizio 2023.